ciao a tutti bentornati sul canale 4k e tech ho scelto questo momento molto semplice nella mia macchina mi fermo un attimo e faccio questo video che in realtà è molto molto importante per me è un video di ringraziamento che uno spera sempre di dover arrivare a fare no perché comunque raggiungere un traguardo e soprattutto inaspettato quando uno poi inizia a fare una cosa così da dal nulla per scherzo diciamo come è stato il mio canale quando è nato qualche anno fa per i primi anni poi ovviamente seguito in maniera molto blanda è una cosa importante quindi vi volevo veramente ringraziare perché abbiamo superato le mille iscrizioni che per me è un traguardo molto importante siamo già andati oltre di qualcosa e soprattutto ieri youtube mi ha mandato una congratulazione per aver raggiunto i 100 mi piace con un video di 25 mila visualizzazioni e questo veramente per me è qualcosa di molto importante mi fa crescere sempre più il canale come ho promesso farò sempre più recensioni di telefono in arrivo una nuova persona che mi aiuterà appunto nel nelle recensioni nei video perché la cosa diventa sempre più impegnativa bisogna bisogna farla crescere bene con intelligenza e quindi sono in arrivo novità sono in arrivo questi ringraziamenti vi ringrazio veramente di cuore a tutti quelli che hanno sempre sempre creduto in questo canale ai tanti che sostengono sostengono il canale il sottoscritto io continuo a fare del mio meglio adesso la cosa diventa sempre un po più professionale un po più impegnativa ma noi siamo pronti ad affrontare questa nuova sfida da mille vogliamo arrivare a 2000 3000 4 se si riesce io ci credo sempre e sono convinto che insieme anche a qualche nuovo inserimento una organizzazione nuova sicuramente arriverà arriveranno ulteriori soddisfazioni e come non ringraziare un'altra volta di questo traguardo ancora grazie non è mia mio uso chiedere like chiedere iscritti perché comunque la cosa secondo me più sbagliata che uno può fare è proprio richiedere i like su youtube e gli iscritti perché se uno piace il pubblico lo premierà sempre gli utenti lo premieranno sempre non sarei chiedere brutto è come quasi dire dai fatemi like fatemi gli iscritti no siete voi che decidete quando fare like e quando fare iscritti così con poca luce mentre arriva sera vi saluto ancora questi due minuti gli spendo veramente qualcosa e ringrazio ci sarebbero dei nomi da fare ma non mi sembra già perché siete più di mille quindi poi c'è chi magari sei un po di più se un po di meno ma ma l'importante è stare sempre con voi con quattro capite con paolo uguala con il futuro di questo canale che si innoverà ancora di più grazie ancora e i video continuano sigla grazie a tutti grazie a tutti